Ciao a tutti e bentornati su Flash Trendita. Oggi parliamo di una notizia bomba che riguarda Fedez e Chiara Ferragni. Siete pronti? Partiamo subito? Amici, oggi abbiamo una notizia che sembra uscita da una soppopera. Fedez e Chiara Ferragni sarebbero di nuovo ai ferricorti e non solo. Fabrizio Corona ha sganciato una bomba. Secondo lui, Fedez sarebbe innamorato di un'altra donna da ben 5 anni. 5 anni, proprio così, 5 anni, una relazione che sembra quasi invisibile, ma che, dice Corona, influenzerebbe da sempre la vita di Fedez. E indovinate un po', questa donna sarebbe già impegnata. Che storia, vero? Ma le rivelazioni non finiscono qui. Pare che Chiara e Fedez avessero provato a riconciliarsi persino andando insieme dallo psicologo per il bene dei loro figli. E per un po' sembrava che le cose stessero andando meglio, tanto che Chiara era andata a casa di Fedez per stare con i bambini. Poi, però, la pace è durata poco. Il famoso tapiro di striscia la notizia ha riacceso la miccia. Secondo Corona, Fedez si sarebbe sentito attaccato dalle parole di Chiara, come se cercasse di screditarlo. La cosa vi lascia senza parole? Pensate che possono ancora trovare un equilibrio? Io sono un po' scettica, ma voglio sapere cosa ne pensate voi. Scrivetelo nei commenti, perché credo che solo voi possiate davvero darmi una visione chiara. Ragazzi, cosa ne dite? Questa storia d'amore travagliata avrà mai un lieto fine. Vi aspetto nei commenti e se siete curiosi di sapere come proseguirà questa soppitaliana, iscrivetevi subito al canale. Il prossimo video non mancherà di sorprendervi. Grazie di cuore per essere stati qui con me oggi. Ricordate di lasciare un like e di iscrivervi, così non perderete le prossime novità su Flash Trend Ita. Alla prossima!